Come era prevedibile già dallo scorso maggio si è notevolmente allargata la lente della procura messinese che all'interno dell'inchiesta Matassa sta cercando di sviscerare anche i legami tra clan e politica. Il nuovo provvedimento di chiusura delle indagini è stato siglato dai sostituti procuratori Liliana Todaro e Maria Pellegrino. Nel Calderone sono finiti anche Franco Antonio Genovese e Franco Rinaldi con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Con un sistema capillare diffuso ostacolavano il libero esercizio del voto in occasione delle regionali del 2012 e questa l'accusa mossa dalla procura. Assieme all'ex consigliere comunale Paolo Davide, all'imprenditore Paolo Siracusano, ai tuttofare Angelo Pernicone Baldassare Giunti e al professionista Giuseppe Piccarella secondo la procura avrebbero procacciato voti in cambio di busse della spesa e favori vari. Sin dalle prime battute il raggio dell'indagine Matassa sembrava destinato ad ampliarsi e così è stato con il convolgimento dei deputati Genovese e Rinaldi ma potrebbe non finire qui e sfociare anche in una nuova tranche d'inchiesta.